Donare una scelta di equilibrio è il claim di Slack for Aido, la manifestazione del 20 settembre organizzata dal gruppo Aido di Fabriano all'interno della Notte Blu 2014, che ha unito le esibizioni di Slackline e Highline nei giardini Regina Margherita e nelle piazze di Fabriano all'azione di informazione sulla donazione degli organi. L'equilibrio è il fulcro dell'azione di informazione proposta da Aido, associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule e il centro della disciplina, l'Highline, che svolge Giacomo Becchetti, vero protagonista dell'evento Slack for Aido e testimonial della nuova campagna stampa Aido della provincia di Ancona. I dottori Tiziana Carer, coordinatrice della sezione trapianti dell'ospedale di Fabriano e Pietro Torresan, direttore della Banca degli Occhi regionale che ha sede nella stessa Fabriano, hanno ricordato nel convegno aperto all'assessore Giovanni Balducci l'origine e l'evoluzione della pratica medica del trapianto, le condizioni per essere donatori, l'importanza della sensibilizzazione all'argomento e di una corretta informazione. Sono una trapiantata renale, 21 anni fa ho avuto la fortuna, purtroppo non in Italia perché all'epoca le donazioni non erano poi così frequenti e quindi io sono dovuta arrivare in Belgio a Bruxelles e praticamente dopo questo trapianto ho avuto la possibilità di condurre una vita normalissima e di poter crescere i miei figli e la mia famiglia e di riprendere normalmente il lavoro e adesso è vivere tranquillamente e serenamente. Lei ha ricordato l'importante azione Don Gnocchi che è stato il primo donatore di corne in Italia, quindi effettivamente come funziona la Banca degli Occhi regionale, che cosa accade? La Banca degli Occhi regionale è un istituto pubblico che è stato inaugurato qui a Fabriano nel 2002 che ha la funzione precipua di raccogliere le corne che vengono donate nei vari ospedali della regione, esaminarle, valutarle, scegliere quelle che sono idonee, perché non tutte sono idonee, sia per motivo tessutale o perché il paziente deceduto non aveva delle malattie che potevano essere trasmesse e le corne, ripeto, idonee vengono selezionate e trattenute per essere distribuite in quegli ospedali dove vengono fatta richiesta per una trapianto. Poi, o accanto a questa attività di corne, di trapianto e raccolte corne, esiste quella delle donazioni delle placente, dalla quale si ricava la membrana amniotica, che è un tessuto altamente prezioso che viene utilizzato in varie specialità di cui adesso non è caso di parlare. Quella delle corne non è l'unica banca di tessuti, tra l'altro? No, in Italia esiste una dozzina di banche delle corne, come esistono altre banche dei tessuti, tipo pelle, ossa, valvole e via dicendo, e sono un po' distribuite per tutta Italia. La banca degli occhi di Fabriano, che è della regione Marche, assolve anche il compito di assistere, per quanto riguarda la raccolta e la distribuzione di corne, anche la regione Umbria più vicina. Lei ha detto una cosa molto interessante, per capire un donatore bisognerebbe chiedere se volesse ricevere. Sì, secondo me è la cosa migliore, cioè se tutti noi volessimo ricevere qualcosa, è giusto che a questo punto noi siamo anche disposti a donare, se siamo nelle possibilità di farlo. Ma questo è un discorso che è fatto con i familiari nel momento del dolore, non è molto semplice. Arrivare a un percorso completo fino all'impianto e il trapianto dell'organo nel ricevente, è un percorso lungo, che tocca tante realtà e ci sono tante possibilità che devono essere prese in considerazione. Ognuno di noi ha un'educazione, dobbiamo entrare in empatia con la famiglia e cercare appunto di portarla a capire che può essere una possibilità per superare il lutto, quella di pensare che qualcosa del proprio familiare vive in un altro corpo. Tenendo presente che la legislatura italiana è molto attenta a questo, quindi non sapranno mai dove l'organo del proprio familiare verrà impiantato. Il nostro lavoro è questo, di condurli lungo questo percorso in un momento di dolore estremo. Nelle scuole abbiamo diversi progetti. Abbiamo progetti che fanno ogni singola AIDO, che va nelle scuole magari insieme all'AVID, altre soluzioni. Poi abbiamo il progetto del centro servizio di volontariato, che si chiama Volontariamente, che segue il terzo e quarto superiore solitamente, quindi si va nelle scuole insieme al progetto del centro servizio di volontariato. Poi c'è il progetto che il terzo anno si farà nella Regione Marche, che si chiama Don Action, che coinvolge moltissime associazioni di volontariato e queste associazioni, con un progetto ben definito, vanno alle scuole. Due anni fa è stata nelle quinte elementari della Regione Marche, lo scorso anno nel terzo, quarto e quinto superiore di tutte le Regioni Marche. che quest'anno partirà poi a ottobre, questo nuovo progetto, si chiama sempre Don Action. Però l'AIDO sfrutta di tutto nelle scuole, dagli incontri, dal materiale pubblicitario per bambini, dove non si parla mai di donazione. Un AIDO non è mai nominato, si parla di dono, si parla di ricostruire qualcosa che manca, cioè sui giochi più che altro, non solo la donazione vera e propria. Perché è così importante parlare ai giovani? Perché i giovani sono quelli che poi porteranno le informazioni a casa, perché se non si forma la coscienza civile fin da bambino, se non si parla di un argomento, qualsiasi argomento di un bambino, da piccolo poi si ritrova da grande, questo argomento che già conosce. Se non si è mai parlato, se non si è mai sentito a parlare né dell'AVIS, né dell'AIDO, né di un'altra associazione magari di volontariato, di qualcosa, il bambino non sa. Da grande non potrà fare una coscienza di quello che ha saputo, quindi non può portare neanche a casa e parlarne poi con i familiari. L'idea invece di scegliere per questo evento un testimone alla Giacomo Becchetti con uno slogan, donare una scelta di equilibrio, da che cosa è sorta? È sorta per caso, grazie agli amici dell'AIDO qui di Fabriano, perché nel momento che hanno chiesto a Giacomo se si poteva interessare per questa manifestazione e farlo con l'AIDO come sponsor, da lì è nata la voglia di Giacomo di iscriversi, da lì è nata l'idea poi di trasformare un evento all'interno della Notte Blu di Fabriano e di fare questo convegno. E lo slogan è nato appunto proprio per l'attività che fa Giacomo, che è questo lavoro di Slackline incredibile.